E ciao ragazzi, io sono Alice e benvenuti in questo pazzissimo video come al mio solito Ok, pensavo che si poteva uscire ma evidentemente la mia idea era sbagliata Perciò dobbiamo entrare per forza da dentro Questo parkour horror Allora, avete presente i vostri amatissimi Cioè i nostri amatissimi fast food Ma ci dovremmo scappare proprio da quello Cioè capite Oggi volevamo scappare per il fast food Dove pigliano i panini, Maria, santa, ma che Abbiamo iniziato proprio alla grande Per forza dobbiamo farci prendere a sto tipo Sì, perché se non potevamo entrare dentro Vabbè, qui dobbiamo saltare, tutto facile, easy Mi ha paura No, vabbè, rica, ho Gesù Ma, ho Gesù Ma, rica, ma Gesù Io devo scappare da sto tipo Devo scappare da questo tipo Madonna, sì, ma che brutto Che non l'avete visto Ma Gesù, ma che cacchio era Eh, che bello Morte sana Soprattutto in dolore Passare Su Quella roba Non so neanche cos'è Vabbò Allora Stage 6 Qui Qui, vabbè, easy Easy, molto, easy, molto, molto, easy Da sto momento Oh Gesù Oh Gesù Ho piatto Da sto momento Ho cinque vite Se cado la quinta vita C'è il video Madonna Gesù No, vabbò Ah, ma potevo passare Qui, ma che deficiente Vabbò Passamo Ma quanto il cavolo È brutto Tipo Oh Gesù Ma che infarto Ma perché tutte le cose Horror Le faccio io Di sera Di sera Vabbò Verete è notte Però Ma io devo pigliare Sti cosi Che stanno in aria No Vabbè, ma è all'ora Posso morire ancora quattro parti Stai solo schiattando Alice Di andare avanti Ok Vabbè, leviamo No Non mi voglio arrendere Non ho capito Se doveva andare su quel cosino Ma doveva andare qui sopra Sì, ma allora Vabbè Oh Gesù Ma che cacchio Raga No, vabbè, raga Raga Io sono dentro il panino Ma come cavolo Ci ho fatto Di entrare No, raga No, raga Vabbè Ci sto schiattando Cioè Ma perché Trovo tutto io In modi di Per cui morire Leviamo sta roba Perché se no Il video finisce Dopo due secondi Va Dimenticatevi Dimenticatevi di quello Che ho detto E panino Passa senza di me Perché se no Mi inghiottisci manco Vabbè No comment No comment No comment Allora Finalmente arriviamo Alla fine Dove fidarmi Del tipo Che è stato risucchiato Dal panino Questo qui esattamente Davanti A me Sì O Gesù Però Non è possibile Ma Mi fate capire Ah Devo saltare Io Il panino De me Ok State a zitta Per un secondo Per vivere Un altro po' E non pigliarmi Degli altri infarti Ho superato il tipo Io strafelice O Gesù Abbiamo il panino Sotto A me Mi piace Il fast food No scherzo Dai Raga Se vi dicessi Che non siamo Andati al Burger King O mezza Oh Gesù Bambino Che infartino Dove è andata Oh Gesù Ma perché Siamo tornati indietro C'è una cosa Azzeriamo Per vedere Dove 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 Andare No Il check point L'ho Pigliato Ma Quindi Era normale Che andavo Qui A me Non parve Tutto ciò A me Non parve Raga A me Non parve A me Non parve Sì Ma io Pensavo Che era Sopra O sono Cica Io Cosa Più Probabile Ma sono Scema Cosa Più Probabile Cosa Molto Più Probabile Ma è la tipa Che è morta Sono io Ma non è la tipa Ok Saltiamo Saltiamo Panini Io Sono Arrabbiata Con voi Che mi Continuate Ad ammazzare Alice 22 YouTube Stage 22 Ma perché Più 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 Ma ma io Che devo Fa C'è ma 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 Vedete Ma vi Sgagnazzo Tutti Raga Ma non possiamo Scappare Dal tipo No Dove Devontare Abbiamo Finito Mi So Di Sia Raga Abbiamo Finito No Vabbè Cicato Ok Allora Stanno Dicendo Mi Vesto Non posso Questo Setter Robux Robux Scusate Una notifica Dovevo Sempre Tagliere Un attimo Finalmente Posso Stare Con Il mio Panino Con La mia Sprite Che A me Non Piace Manco Vabbò Qui C'è Tipo 8 Maglialotto Versione Tipo Granny Vecchia C'è Un misto Tra 8 Maglianotto E Granny Perché Ho la testa Gigante No Mi si è Vagato Tutto Ma Come Cacchio Ho fatto Oh Ma Chi Cacchio Vabbè Bene Ragazzi Il video Di Oggi Si Conclude Qui Lasciate Un bel Like Se Vi 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 Una Una Nuovissima Avventura Ciao Ora Mi sono pure Buggata Dentro il Tavolo No vabbè Raga Io sono Scioccata Vabbè Ciao Ciao